Landa, dopo tantissimi scambi, grazie a questo sprint. Siamo che questo può succedere e non abbiamo avuto un giocatore fino al ultimo momento. Hai più amici con te oggi? Sì, per il comienzo della corrida si sentono meglio, hanno fatto un buon lavoro per mantenere la corrida in controllo, e finalmente un altro amici e ha fatto un buon lavoro per me. Quindi Astana ha vinto tre battaglie e hai vinto il mondo, il mondo sport. Possiamo dire qualcosa di questo. Voi i principi rivali del giro in tua vista? Sì, abbiamo visto che l'Astana ha avanti con un livello molto alto, ma anche Bartetta e Però credo che si sentono... Sorry, Pozzo Vivo e Però hanno finito qui davvero bene, quindi sarà un buon giro. A presto! A presto! A presto! A presto!